La finalità della Solidaltrec è quella ovviamente di curare la solidarietà, tanto è vero che l'evento è svolto in collaborazione con l'Aism, con l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla e con l'Associazione Palla Rotonda. L'altro obiettivo è quello naturalmente di far conoscere il nostro splendido territorio, il Parco San Bartolo e il terzo obiettivo è quello della salute, quindi mensana, incorpore sano, curare sia l'aspetto della salute fisica che l'aspetto della salute psichica, psicologica. La camminata è molto semplice, è un trekking adatto a tutti, si svolgerà partendo dal negozio Active Outdoor, si percorrerà una parte del percorso sul Parco San Bartolo e poi si ritornerà in negozio dove verrà offerto un piccolo aperitivo a tutti i partecipanti. La partecipazione è esclusivamente a titolo gratuito, quindi tutti potete venire tranquillamente, non ci sono obblighi di iscrizione o quant'altro, sono previsti dei gadget, degli omaggi da parte dei nostri sponsor e niente, vi aspettiamo naturalmente numerosi a questo evento. Il Solidal Trek nasce da un passo, proprio come ogni cammino che piano piano prende forma. L'intento è quello di portare in luce qualcosa che è invisibile, qualcosa di sensibile che solitamente si fa fatica ad esternare a parole. E questo è un aiuto, il cammino da fare insieme è qualcosa da donare al prossimo che è in difficoltà, che ogni giorno si sveglia con delle difficoltà, degli sforzi. Vi ricordo che l'evento è a donazione libera e mira soprattutto alla sensibilizzazione. La camminata vuole essere una carezza al cuore di coloro che soffrono, vuole essere presenza, integrazione e soprattutto speranza per i passi nella ricerca. Vi aspettiamo numerosi, la vostra presenza è un dono prezioso.